Allora attività che riprendono e attività che si innovano per l'emergenza, il caso dell'azienda friulana Calzavara che ha realizzato soluzioni che rilevano con precisione la temperatura corporea in meno di un secondo su soggetti in movimento. Armando Mucchino. Vecchio tornello addio, ma non solo, anche vecchio nuovo termometro addio. In fase 2 dell'emergenza Covid-19 con milioni di persone al lavoro, le nuove regole di sicurezza impongono rinnovate prassi di accesso a stabilimenti, uffici, luoghi pubblici dove si dovrà garantire anche la rilevazione della temperatura corporea. L'utilizzo anche dei nuovi termometri a distanza oltre alla presenza di operatori richiedeva alle persone di fermarsi, attendere la rilevazione causando rallentamenti e code. La tecnologia viene in soccorso con un'azienda friulana, la Calzavara di Basiliano, che ha messo a punto un sistema con termoscanner in grado di rilevare la temperatura corporea non solo istantaneamente, ma su soggetti in movimenti disposti su due file, con un'accuratezza di 0,2 gradi di possibile scarto. Sistema già operativo negli aeroporti di Trieste e Bologna e al Senato della Repubblica. In questo modo le persone possono entrare nelle strutture rapidamente. La rilevazione si effettua infatti in circa 0,3 secondi, seguendo il soggetto che si muove e la soglia d'allarme scatta dopo i 37 gradi e mezzo. Nel futuro, magari in fase 3, potrebbero tornare utili anche in luoghi, manifestazioni ed eventi all'aperto, come concerti, spettacoli o gare sportive in piazze, arene, spiagge e parchi. Massimo Calzavara è l'amministratore delegato dell'azienda. Calzavara guarda oltre alla fase 3, vuole essere di supporto anche all'industria dello spettacolo e al mondo dello sport. Uno shelter che ben collima le esigenze di sicurezza, quali controllo accessi, rilevazione tramite metal detector, face recognition, con sanità, ovvero la termografia che in questo momento storico preoccupa tutti quanti.